Ciao, sono Valentino Rossi e tu stai guardando MotorcycleUsed.com Ciao! 3 Spirits, questa compagnia è una compagnia basata in Italia e si specializza molto in modificazioni per Bonnevoli e Harle e Marcello, il ragazzo che ha usato, ha detto a me l'ultimo anno che mi piacerebbe davvero di costruire una bicicletta per me ho costruito una bicicletta, perché ovviamente sarà un total 1 off quindi ho avuto l'idea passato a triomphe e mi sono davvero, 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 davvero e questo è l'ultimo prodotto e praticamente è stato completamente re-worked all the different forks, brakes, handlebars, yokes e tutto ciò che puoi vedere, l'air cleaners, wheels, suspension e il sito è unito è praticamente made to look like un platt tracker e il mio personale preferito è l'exhaust l'exhaust è l'exhaust l'exhaust è stato fatto quindi c'è un po' di money in questo ma per me è davvero 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 questo è il tipo di hatta tutto 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 quello è giusto gli forks, gli promedios, i brake i la handlebarrii sono cambiata perché sono in diverse forme ma allo l'inizio tutto la ingine, la gearbox, l'acqua è tutto standard Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info